ciao ragazzi il video di oggi è sponsorizzato da moments un tool che vi permette di fare le clip dei vostri migliori momenti di gameplay per scaricarlo trovate il link in descrizione è un semplice programmino da installare sui vostri pc se avete windows e ogni download mi danno un dollaro quindi praticamente scaricando sta supportando me il canale mi sta dire offrendo un caffè in sostanza quindi grazie a chiunque scaricherà questo programmino ringrazio moments per avere sponsorizzato il canale e ora vi lascio il video mi dispiace la kill poca non partiamo con lui draghetto forza adesso ci sono i cleave non sono cleave con l'elemental vabbè quindi in realtà l'effetto della kill è solo solo tempo solo tempo niente di speciale forse da prendere tc lo davano basso le stats era tra non sdormo o la kill bobo tundra terzo mese di sub non ci credo turni non ci credo grazie grazie bobo grazie bobo papa orso fatto dagli stagisti sicuramente ormai ragazzi a blizzard non sono rimasti molti a lavorare cioè sono andati via i designer quelli bravi non so se conoscete pirate software ben broso sapete sicuramente chi è pirate software è un altro di un altro gioco blizzard sono andati via tutti e sono rimasti e poi hanno preso i giocatori e i caster mi ha messo a fare le carte addirittura vinciamo qua guappa guappa partecipa è qua guappa iscriviamo oddio doppio 4-1 belli eh però oddio non ha mai senso fare la mila sul doppio 4-1 o facciamo un mila adesso e freeze sul 4-1 ci farei il mila e prenderei il 3-3 e farei così ne prendo uno prendi 5-4 adesso e poi 4-6 dopo così intanto il 5-4 già da un più 2-2 passivo tutte e due e se ho i draghi ne ho comunque due da giocare e magari mi esce lo scudivino su cui è meglio fare il 4-6 bello dopo il 3-3 ok no avremmo sempre perso oddio forse il 4-6 no col 4-6 era un po' più forte però mi sembra che avevano perso lo stesso non botto di staz vabbè ci sta dai sembra quelle grosse succulenti difficili da fare gioco a 9 non morti onaga difficile da fare però le reward magari potevano non essere male gioco a 9 non morti che merda sono queste quest è la 1 cioè si potrebbe prendere questo per favorire la quest ma è troppo forte comunque devo fare la giocata a tempo raga la quest qui la finiremo quando sarà il momento non so quando ci potrebbe quasi frizzare il 3-4 non morto taunt non è malvagio piccolo stop solo per ricordarvi che se il video vi sta piacendo potete iscrivervi al canale cliccando iscriviti qua sotto e se volete ricevere le notifiche per i prossimi video potete abilitarle cliccando sulla campanellina merita per me merita il frizz è un buon pezzo da piazzare turno dopo come quinto come sesto e credo che livelleremo tanto livelleremo parecchio questa questa partita la centro è orribile è veramente orribile la centro è veramente una merda quella di destra non era male anche ma niente di game changing queste non sono stati ottimali wow wow e mo? cioè secondo me va fatta quasi al 6 questa tripla come faccio a non fare al 6 qua? cioè cosa faccio? non ho una reale direzione prendo il secondo draghetto frizzo tutto posso comprare draghetto o o addirittura da questo ma forse il draghetto è meglio e poi facciamo level 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 però insomma questa è una coppia ma forse è meglio 3-4 comunque e poi livello mi esce 1 livello forse ha da prendere il draghetto qua per un drago infiorando close in ogni caso questo turno livelliamo e basta ragazzi tra l'altro vi dirò di più vi dirò di più potrei finire la quest e prendermi il pezzo già sto turno basta che me ne muoiono 5 4 devono morire quindi potrei vendere questo in realtà ci sta a prendere questo per la tripla in effetti ci sta la draghetto vediamo draghetto per ultimo in realtà penultimo cioè prima dei draghi per me la tripla migliore sarebbe questa la tripla migliore sarebbe questa qua ma ho paura che mi tripleranno questi cioè sono abbastanza sicuro che mi tripleranno i cavalieri perché sono i più grossi vediamo in ogni caso con una partenza del genere probabilmente si prova a fare una cavaliere una cavaliere eterno build potrebbe essere un'idea in realtà si può fare di tutto però c'è anche la possibilità di giocare con evocatrice eterna che è risolto non penso che si snob no me l'ha data così incredibile quasi sprecata mi sapevo che mi si trippava il cavalieri ma comunque va bene lo stesso che fa sul doppio di passione a turno 7 cioè è straforte come turno provo così posso provare a goldare un taverna 7 allora tac tac allora tipo naga naga è forte è assolutamente silivas qua eeeh si naga broken è telescopio è telescopio ma non si tira adesso secondo me ci sta una buona naga ci sta una buona naga lì non so se la vogliamo frizzare non credo te scoppio ora devo sperare che muoiano questi per ultima comunque siamo messi bene ragazzi siamo messi molto bene perché aver preso questi due a 6 erano probabilmente il top erano il top che si potesse prendere tra l'altro scombano molto bene con spettro della vittima perché comunque adesso mi faccio una bella build naga 7 pezzi naga che non hanno ranturi di morte brutti e quindi mi morirà sempre uno di quei naga lì e prima o poi li tripleremo cosa fa il 4-6 più uno più uno alle naga a fine turno in base alle spell che hai tirato quel turno nooo sapevo ok perfetto a posto perfetto un top 4-6 che figata che figata adesso siamo broken prenderesti l'1-1 ci sta no? tanto qua passano a full naga l'unico problema di sta carta è che muore per ultima probabilmente però comunque devo prendere dei naga decenti draccari perdono 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 oh tanto il gaudiatore così non muore mai per ultimo e possiamo steltare quello che invece vogliamo avere come avere sdoppiato che è chi vogliamo? sdoppiato Silivas probably o forse la tripa di questo non dirlo agli altri ma faccio il dico perché qua a questo punto la sfida è riuscirà a killarcene almeno uno uno mi ha killato esattamente quello che non volevo che mi killasse però insomma pazienza ce ne faremo una ragione ora si che si ragiona che merda era chiaramente più forte fare quella cioè non è male questa qui è una buona spell vabbè va bene potrei mettere ala ma a questo punto c'è già mirmi bidi ma la spell 2 non era meno di scope che ti faceva tutti naga allora era la scelta era tra vedi sei naga oppure vedi ne tre e prendene uno nell'immediato ho preferito prenderne uno nell'immediato perché l'economy era abbastanza bassa però andavano tutte e due bene cioè si poteva anche vedere lo shop e provare a cercare gli altri pezzi diciamo che ho fatto la giocata più veloce tanto questo ho avuto poche carte lo faccio scalare intanto però si poteva stare anche la spell a 2 si era close turno 9 comunque ragazzi questa partita per non vincere ci dobbiamo impegnare il problema è che sono troppo forti e non mi si evoca niente questi non muoiono non prendere la mante sono il più grosso in sto caso devo daccare non è il più forte ma combatterà un servitore in meno una moneta d'oro in più ok il modo più efficiente di scalare con le carte che sono uscite turno 10 quante spell abbiamo tirato le gemme se ne tira una turno perché questa carta qua impone che le magie siano diverse quindi l'1-2 che ti dà le gemme e l'1-2 che ti dà le spelline da taunt sono buoni perché sono due spell in due turni diversi quindi ne prendi uno e sei a posto per due turni con quello spell lì era quasi di mettere stealth al più grosso e provare a far morire la naga al 6 si può fare anche l'inverso il problema è che è troppo forte secondo me abbiamo l'effetto di alakir secondo me ci sta comunque darlo a mirmi bidone cioè comunque oh ragazzi mi arriverà la tripla di questo la peggio pazienza vuol dire che i fight li vinciano tutti dato che è abbastanza randomico è andata bene il fight decisivo è stato quello dove ho rischiato che mi seccasse il drago cioè questo qua se gli rifilo 15 danni va solo che bene ci sono dei siliva scritturano in shop bello cioè è bello mi ha dato un 2-2 in realtà ha lo stesso era bene se mettevo lui qua prendevo uno di questi almeno vabbè va bene roll questo per esempio si prende se la manita si tira ok si prende ok già tutto qua posso prendere arbor che tra l'altro si potrebbe anche stare l'unica spec che non ha tirato è mare mare ragazzi ma si potrebbe far saltare questo e tirare mare mare ma secondo me si può anche aspettare tanto non non c'è fretta nel sneaker non c'è fretta più che altro magari turno dopo riesco a trovare la specie draccari quindi è meglio tenere la turno dopo perché taunt al mirmi perché tanto se lo prende con l'effetto di alakir quindi è semplicemente per dargli più uno più uno in più sto massacrando tutti se la tripla non è vero no non è vero che ha dato vittà troppo presto mi ha dato uno verdoso eh fa solo questi i problemi ogni game allora 2-9 gross allora facciamo questo allora grazie mille Lorenzo per il secondo mese di sub grazie mille draccari per chiudere io lo dico sempre fai le cose in grande o non farle affatto minibigio allora questo va su questo quanto è forte non morti che ha battuto questo ed è nato l'ostraversario quindi si può andare a minarlo per bene lo facciamo qua goldosilivas vero mi sa più forte grazie mille a kydor del prime più forte goldosilivas o lancia viscida sydivas no mi da due spell gigante cosa già ho fatto cosa già ho fatta e poi 5-3 non l'ho fatta che turno perfetto perfetto un altro 100% solo 100% sta partita stiamo annichilendo la lobby scusa scusa la seconda draccari magari lo trippiamo pure io non lo so qua forte tripla sperma è forte anche questa cosa ci piace di più impostiamo allora quanti spell avevamo tirato 6 7 questo qua ci dava 2 questo qua dava 3 spell in più quindi comunque valeva lo stesso per più 6 più 6 però allo stesso tempo avevo shot di trovare il scudo divino da dare qua e da dare qua qui non lo so ragazzi deve fare due conti però addirittura dire no sense cioè no sense goldare questo anziché questo non lo so così sicuro al 100% onestamente non ci metterei la mano sul fuoco si potrebbe comunque svapare il draccari qua la giocata probabilmente adesso facciamo pompiamo il più possibile 4-5 può servire il mirror sì magari turnoppo ci sta in effetti cioè bisognerebbe fare un conto di quante spell avevo tirato e quindi tipo di quanto buff ho perso però senza considerare cioè togliendo comunque le 3 spell extra di questo e poi con tra la probabilità di trovare scudo o spell che comunque danno più 4 più 4 che fanno comunque più che goldare questo 76.9 gg primo posto finally 76 c'è un altro ciao youtube bella raga abbiamo giocata bene clean che c'è un altro Grazie.